L'Arma dei Carbinieri ha celebrato la propria festa, tradizionalmente fissata, per ricordare la data nella quale, nel 1920, fu concessa alla bandiera dell'Arma la prima medaglia d'oro al valore militare per l'eroica partecipazione alla Prima Guerra Mondiale, bandiera che a tutt'oggi rimane la più decorata. La fondazione dell'Arma risale al 13 luglio 1814, quando il re Vittorio Emanuele I, con regie patenti, costituì i Carabinieri Reali, un corpo di militari che, oltre a contribuire alla difesa dello Stato in tempo di guerra, erano in tempo di pace e incaricati di vegliare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza. Funzioni che i Carabinieri conservano tuttora, la difesa dello Stato in qualità di forza armata e la difesa dei cittadini come forza di polizia. L'impegno dell'istituzione, l'impegno dell'Arma è sempre un impegno in crescita, ma il nostro obiettivo principale è quello di dare ai cittadini quella che viene definita la sicurezza percepita. Non basta il risultato, non basta fare bene e far crescere il proprio dovere, serve far sentire al cittadino questa sicurezza, far sentire al cittadino che le cose vanno meglio.